Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo Clash Royale, stavolta c'è anche... MrL ragazzi, pronto subito a fare partite contro i Chris Quindi ragazzi, come potete vedere, mostra come sono preso io Io ragazzi ho soltanto 300 trofei, perché ho cominciato da poco Mentre i Chris ci avrà le carte che sono il doppio delle mie Quindi ragazzi, il MrL avrà la vita, non riuscirà Tempo fa vincevo io Tempo fa, tipo quando c'era ancora Napoleone Ok, è molto scomodo registrare così Ma non mi sembra Sì, devi stermi attaccato Uh, butta il gigante lui, mossa avventata Che gran peccato No, poteva usare il cazzo che mi frega di arcieri Peccato, peccato, un vero peccato Ah, hai dovuto usarla Eh sì, ho dovuto usarla Molto bene, allora io userò Io sto sulla difensiva, mi sa, perché non ho carte tank Ah, è vero, perché lui è di qualche livello in meno Solo qualche, lui è il 3 e io sono 6 Ditemi voi Quindi è solo dimostrativa, perché prima o poi dovevamo farla Quindi la facciamo il prima possibile Non va, non va Forse Ma il gigante riesce ancora a starci dietro Ma gli scaletti sono troppo veloci Non riesco a ottenervi Esatto, ok, gli abbiamo fatto un po' di danni ragazzi Mmm Un po' gli ho fatto Un po' Dai che vanno Vabbè non potevo chiedergli in modo Ero, sono stati bravi Un pochino Sì dai È stato bravo il bombarolo Ok È quello che doveva fare Il gigante, lui mi sta mettendo Ho sbirciato Un po' di cazzo che gli frega Già Ma ora io controattacco con le frecce Intanto ti è andato Cosa? No, ma io ho le frecce scarse Vabbè Vabbè Tanto Sta tranquillo Porchinski Porkonski Dov'è l'orda Dov'è l'orda Pam 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 Eh mi dispiace Mi dispiace Sì guarda che è una Non sono tutte Eh lo so Auguri a batterti Mille livelli avanti a me Come se ne perdo una Sospacciato È come tipo vincere contro 500 contro 1000 Contro 3000 No aspetta Un po' di più Il triplo Il triplo Come fai sofferto Perché ho visto i miei soldi di livello 2 Davvero Devo steviare la loro attenzione Verso qualcos'altro E ricordatevi che abbiamo il canale I sil Abbiamo il clan Ricordatevelo Si chiama come il canale Un po' di tutto E c'è la descrizione Nel caso Non facciate casino Eh magari c'erano anche dei fake Ma che lezzo che sei Ecco qua Prenditi sto cavaliere Mettiti le carte scasse Così posso battere Abbi pietà Anche tu la butti sui goblin Bravissimo I goblin sono i migliori Perché non costano nulla Anche io ce li ho Mi cambio un po' Sono tipo le pulci Sono dappertutto e costano poco Si Ok Vediamo un po' Quanto Hai ancora vinto Neanche tu Aspetta non l'ho capito Pam Pam Vinto Te la distruggo una torre Te la distruggo meno una Beh Ah porca troia Non male Almeno non era male Ops Vabbè Eh vabbè È finita È finita Ho vinto Decisa È decisa Queste frecce sono invitate E zacchete No non sono partite le frecce Non sono partite le frecce Peccato Ce ne sono partite L'ordine non esiste 2 a 0 Beh Neanche malissimo Andiamo che provo a cambiare deck Aspetta un attimo Ok Ok Intanto voglio provarmi un altro Un tiro Guardate questo qua è tipo È di prova ma Dai non è male Che livello ce l'hai tu il bomber oro? Eh A livello 6 Ah ok Provo a cambiare con questo qua Che magari Potrebbe fare qualcosa Allora aspettate un attimo Ragazzi Quindi cosa cambio Cosa devo cambiare Vediamo Aha Ho capito perché non va Ok son pronto Ok Provo cambio deck anch'io Facciamone un'altra Guarda salutato Tanto regista è lo stesso Quindi lo sanno già di essere salutati Puoi farti la mica 7 in live ragazzi Dai che mi faccio Mi sfido Dai che sfido me stesso Ecco qui Che c'è Vediamo un po' cosa fai ora Andiamo a buttarla subito sull'attacco Ok Anch'io Pam 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 Ma dai i miei palestieri Dai i miei Palestieri Porca troia la tattica che ti piace tanto Già Hai detto palestieri ti rendi conto Lo so a me ne pento Oh porca troia Sto a distruggire una torta Si sto andando sull'offensiva No gigante di merda Fai schifo Mi cassa come le femmine Mi cassa come le bambine Ai Morto Hai scelto il gigante femminato No dai no 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 Hai scelto il gigante femminato Ma Dovevi scegliere un altro Si quello era serio Vai dai non sono pessimi Ma a livello 3 sono pessimi decisamente Eh lo so eh si Guarda guarda che mi butta il goblin in marzo Uno solo È quasi Un atto di disperazione No 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 Aspetta vediamo O mi hai riuscito a lanciare A tirare una lancia Una Eh a me non sono veloce Costano pochi i goblin Beh si dai Meritano Mi sono ricordato che lui Non ha quasi nessuna difesa aerea Quindi io potrei forcerlo Eh si sono ancora all'inizio Io ci credo Dai Dai Non so Voglio fare Un attacco multiplo Nooo E tentare Nooo Non ci credo Sto perdendo di nuovo Si Arciere di merda Spara Spara Scolpisce Bastardo Uccidio Ah davvero Non credo di aver capito Morto Bastardo Si è come sparare sulla croce rossa È come vincere le paralimpiadi Mentre tu non sei Non sei paralimpico Come cazzo Ok almeno qua ne sono giocata bene Ti ho distrutto quella piccola ordetta Ma Ecco basta lo spammo goblin Non preoccuparti Quando è schifo goblin di merda Goblin di merda No non hanno fatto danni Non ci credo Fanno cagare il cazzo Fanno schifo Dai che va Dai che va Dai che va Voglio provare la tattica ultra Dai vai 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 Più veloce più veloce No La furia Chi te l'ha venduta Quelle Dio in persona La furia L'ho trovata in un deck No cioè l'ho trovata in un coso A caso Coso caso A meno ti distrugge una torre ora No Deve morire la tua torre A discapito delle altre Non credo Deve morire Si butto la furia anche qua Così non arriverà a destinazione No Oh Ma che povero È con la mia autostima Vediamo forse ce la fa No non ce la fa È con la mia autostima Tipo tattata No provo a buttarlo come agro Per fare Per fare Non lo so Non è servito a nulla Vero O forse funziona 18 secondi Un po' tutto Un po' tutto Bene Dai dai che va Un po' di tutto Un po' di tutto Non ce la fai Non ce la Eh Un 50 Ah vero Corrette Lasciate Lasciate Dai No con 50 All'acqua È vergognoso Dai che forse riesco a batterlo No No 176 ti è rimasto di vita Ti diverti a stuprarmi E ritieni ti fortunato Di essere ancora vivo Vediamo un po' se c'è gente Che vuole essere salutata In quadra un po' Vediamo un po' Eh beh il gioco è mio Ciao Salutatemi in un video Please Sans Undertale Ciao Sans Undertale Ciao Sans Undertale Ti sicuro tu hai conosciuto il nostro canale Grazie a uno dei miei MV Ne sono sicuro Ovvio Mi sa di sì Ok Una visualizzazione Bello Sans Undertale ancora Ci fa piacere sapere Che ci segui Perché siamo Di Cristo99 Bravi Grazie 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 So di essere un maestro Di Clash Royale Bravi Non bravo Vabbè bravi In 99 grazie Grazie So di essere fortissimo Sono io il maestro Di Clash Royale Sono il vero erede Di Napoleone Prima che morisse A Waterloo Sono il vero Grazie Voglio vedere La differenza Di trofei che abbiamo noi Di trofei che abbiamo noi Tu hai 1441 Io ho 289 Giusto qualche differenza Leggera differenza No però Ok Possiamo salutare Continua a scrivermi Questo qua A fine Io ho capito Che io sono il dio Del canale E tu sei un suddito Io non posso fare gameplay Lo sai Possiamo salutare Se vuoi copia il mio deck Io Copia il mio deck Che onore È primo lui Eh mi sa di sì Ma io non ho le sue carri Io non ho il mega sguerro Come lui Vediamo un po' Quale è la mia carta preferita Vediamo un po' Bisogli da profilo Vediamo un po' Che deck Allora Questi qua Aspetta Eh sì Però io non so usarli bene Questi qua Quindi mi sa che passerò Sono abituato Con un altro tipo di tattica Difensiva Offensiva Quindi Ci proverò Ma non so Sì se mi trovo bene Lo userò Altrimenti no Comunque Passando a voi Che state guardando Il video da youtube Vogliamo Diteci se volete Altri scontri Tra Tra Altri scontri Tra canali No aspetta Altri scontri Tra Io 2000 Ah lui ha 2000 trofei Bene Mi sale l'invidia Mo sale L'invidia No non vidia Io non sono in grado Di scrivere col telefono Ho scritto Mo sale Mo sale l'invidia Mo sale l'invidia 6 undertale Battiti con 6 undertale Ah proviamo Dai guarda 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 Bene aspettate che guardo la live Tanta Assista guardando Assista dal mio No anzi assisto dal tuo meglio Così vediamo Vediamo Io qui esco che mi consumo la batteria Dai che gli faccio Gli faccio un po' di compagnia Ok Ah si esi qua Bombarolo vai Bombarolo Però cazzata a parte Per un iscritto Farsi Essere notato in un video Oh sto qua è il tuo livello Beh dai Beh dai Per un iscritto Essere notato in un video È una roba assurda Mi sa Allora quella la mi dà parecchio mostri Io qui vedo mostri Quindi non la butterò Io qui vedo mostri Che non pensavo neanche ci stessero Da quanto sono povero Tu guarda l'arena leggendare Poi ripetimelo Vabbè dai Un paio di anni Un paio di anni Un paio di anni Un paio di anni A sta parte E sarò al tuo livello E forse ci arriverai Però lui dice No non posso bastare Il mio comandante Tipo si suicida Tipo esce dal gioco E mi lascia vincere Oh ci sei Chris Cosa ha fatto Non farà più video E però mi sta Non è cattivo Anzi no Non è per niente cattivo Mi sta fottendo Mi sta fottendo La Valkyria No Vendica Mister L Vendica Non ce la fa E che cavolo È full vita la Valkyria Vabbè vabbè A livello alto Le Valkyrie sono buone Anche come te Che stavo dicendo Sì abbastanza Però io A livello alto Vabbè che tu hai le carte OP Ovvio che me la ti dice subito Beh sono riuscito A foterli La torre Perché proprio Per pure casualità E vabbè ma io non so E non so armi da contro tank Dei suoi Dai Sghe Ma quando ci mette a caricare Quei cosiddetti rossi Fanno tanti danni alle mure Eh sono Sono all'Akbar Con il là Eh lo sapete Hai detto alle mura Lo sai Eh sì alle mura Alle torre Qualche' Ah Però fa danni Fa danni la Valkyria Pensavo di meno È utile È un anti order La Valkyrie È un anti tutto dopo Dopo un certo livello Sì dopo un certo livello Sì Allora Mi sa che devi dare supporto al pomerolo Perché va a farsi Il massacrato Eh vabbè va a farsi Hai visto che roba Quella se l'è giocata Davvero Davvero male Gli ha lanciato La bomba in testa No e vabbè Eh bravo sto qua Sa giocare Dai voglio buttargli Delle orde Delle orde casuali Perché spero di Oh glielo ho buttata giù Glielo ho buttata giù Bene Eh però guarda cosa mi è rimasto Due sgherri Male Bombarolo fa qualcosa Dovrebbe puntare Destruggire l'altra torre Per buttarla sul sicuro Ecco infatti Eh sì sì Ma io ho lui Eh lui Aspetta All'Akbar Vai 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 Ultrasense ricordati che la Tattica preferita di Chris è Gigante e domatore Sansa Undertale Sveglia Cosa vi ho detto io? Hai detto Ultrasense Ah Ultrasense Ma mi ha messo due domatori In un colpo Ma che è uno con te di sera Questo qua Se lo fabbrica Ha dedicato a Mr.L Non posso che esserne felice Eh io un po' meno Che è troppo veloce Troppo forte Butta la furia E faccio un ultimo Guarda se ci riesci Sei un grande Un'ultima azione Dai La furia potenti danni? Sì un po' di velocità Eh va bene Non ho potuto fare nulla Sentitevi l'esperienza Sentitevi l'esperienza Bella partita Perché Cioè È troppo È troppo potente Visto che tu C'è 1400 contro 2100 Io ricordo che Vi dico bravo Mi hai vendicato Ok possiamo finire il video Ok Ok quindi Il video finisce qua ragazzi E ci si vede al prossimo Ciao a tutti